Io penso a tutti gli studenti che prendono un sacco di botte da mesi ormai nel tentativo di chiedere alle nostre istituzioni di fare un gesto concreto per fermare la carneficina in atto a Gaza da più di otto mesi, ma vale anche per... Prima è stato premiato un servizio per le donne contro la violenza, per le donne, giovani o meno giovani, che scendono in piazza contro la violenza, ma anche a difesa dei consultori.